Ci troviamo al centro del riuso di Via Toscana, un luogo dove gli oggetti trovano una nuova vita, ma non solo, un luogo anche dove c'è spazio per evitare sprechi di eccedenze di cibo. Sempre molto problematica questa tematica, soprattutto nel periodo natalizio, un periodo di maxi consumi alimentari. E ci troviamo proprio nel magazzino del reparto alimentare della Onlus Gulliver. Qui vengono radunati tanti cibi da diverse direzioni, su tutte quella della Fondazione Banco Alimentare, ma poi altre situazioni come quella della Comunità Europea con il marchio FEAD, le fondazioni, i privati. Tante situazioni per evitare sprechi e destinare questi cibi che andrebbero buttati a chi ne ha più bisogno. Il Covid ha accentuato la difficoltà, quindi il bisogno delle famiglie. Purtroppo abbiamo visto che le persone che donano o i commercianti che donano sono sempre in diminuzione purtroppo. E questo ci mette in difficoltà sia noi che gli altri enti che distribuiscono in città. Un sistema di recupero cibo davvero organizzato in cui nulla viene lasciato al caso. Li vedete qui con me, i raccoglitori, coi nomi dalla A alla Z, delle famiglie seguite dalla Gulliver. Tutto qui viene registrato. Cosa viene donato, in quali quantità e in quali tempistiche? Abbiamo due stanze, un magazzino più che la stanza di distribuzione e attualmente forniamo 180 famiglie, quasi 400 persone, di un pacco cibo settimanale. Diciamo che a Pesaro le realtà che ci sono fanno un ottimo lavoro. In altre città dove anche il comune mette del suo, gli esercenti mettono del loro, riescono a recuperare a fine giornata tantissime cose. Pensiamo solamente ad un esempio, le grandi città, Bologna, Milano e anche Roma, dove il comune dà uno sgravio della taria ai commercianti che partecipano. Perché non farlo anche a Pesaro? Dovremmo sederci tutti quanti intorno a un tavolo, in primis il comune, gli altri enti e i commercianti, per trovare un modo, un percorso per poter recuperare tutto quello che la sera gli esercizi buttano via. Cose che sono buone, sono buone anche per il giorno dopo, che sono utili. Quindi in una Pesaro, il 2022, nei quartieri nostri residenziali, i quartieri per bene, vedere le persone che vanno nei bidoni, fruggerono con le mani, tirano fuori il pane, le verdure, è una cosa che non esiste, non si può vedere, è una cosa che non ci deve essere. Un lavoro, quello del recupero del cibo, del riuso degli oggetti, reso possibile solo grazie al lavoro di un esercito davvero di volontari che si impegnano quotidianamente in questa missione. Tanti, circa 300 ragazzi, sono quelli che sono riconducibili ad esempio ai progetti di alternanza scuola-lavoro PCTO. In pratica la scuola permette agli alunni di partecipare ad esempio a corsi che possono essere a scuola o possono essere come questo, che appunto andiamo nei magazzini o nelle scuole, negli asili. Noi siamo qui per dare una mano ad organizzare, a sistemare comunque il cibo o quello che arriva e siamo qui anche per prendere ore che ci serviranno per la scuola, per dare l'esame. La Onlus Gulliver fa tanto ma si potrebbe fare tanto di più. Ad esempio una problematica è quella del recupero del cibo fresco. Ci sono anche problematiche strutturali. Li vedete qua, un paio di frigoriferi, pochi altri sono situati in un'altra zona, ma una cella frigorifera risolverebbe ad esempio tante problematiche che al momento non riescono a gestire il recupero del cibo fresco. La colpa non è di nessuno, né del comune, nei supermercati, né dei volontari, né altri alimenti. La colpa forse è anche nostra perché è ora di sedersi, di ripeto, intorno a un tavolo e creare un percorso virtuoso di recupero alimentare.